Grazie E' un problema enorme perché mi cadono tutte le stelle sopra casa Anzi in vita reale sarebbe un problemino Un problemone Eh Ehm Voglio fare una cosa cioè separare tutti I materiali Importanti quindi l'oro E quelle cose lì Da tutte le altre ceste e metterle qui In fondo Oddio non riesco a parlare seriamente Sta venendo gli spasmi Morto Ehm boh per no Posso anche buttarle via Ehm mettiamo giù La rosa Ehm E voglio mettere via Tutti questi Cosi Your Ehm tu puoi andare giù Ah non ti volevo buttare Tu puoi metterti giù Tu puoi stare giù anche Questi semi qua che non so cosa cavolo servono Ehm Ancora non mi serve Vediamo Questi Questi Andiamo a metterli giù qui Ok Bene 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 Quindi visto che abbiamo un po' di tempo vorrei continuare a mettere il muro qui Ok Vediamo Sti blocchi di terra qua Qua in o qui Ok Continuiamo Continuiamo Dove siete i blocchi Blocchi Dovrei farmi un ascia migliore perchè questo è più costolentino Anzi sai cosa La faccio subito Vediamo Penso che questa non mi basti per farne una Ecco qua Tu puoi andare nel dimenticatoio Bene Ok Vediamo quanto è veloce questa Io voglio uccidere sti conigli Non vi accoppiate Morite che è meglio Ok Si è già più veloce Oh si è veramente più veloce Ok Ok direi che Prendo uno stack intero di Quella che se non sbaglio Uno stack intero è un Da 250 Tipo Si Penso si Scaviamo 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 Beh non è che si scava un albero Beh no Si potrebbe anche scavare un albero Però Avrebbe un altro senso Distort jump gli alberi Ok Penso di averne abbastanza Per fare un'altra casa E per forza Arriva Forse Si Forse far arrivare Il nuovo Un nuovo NPC Che non so Quale potrebbe essere Se qualcuno di voi sa Quale NPC Arriva dopo Ehm Il demolizionatore Lì Come cavolo si chiama Lo dica pure Perché io in questa serie Non guarderò la wiki Ma chiederò tutto a voi Quindi sarete voi Coloro che mi aiutano Ehm Yes Basta Nulla Nulla altro da dire Mettila Metti La porta Ok Mi servono Tre torce Ok Mettiamo anche le torce Bene No 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 Il mio senso Di volere le cose No D'addio santo Ho un senso Di volere le cose Tutte perfette Non so E' Minecraft Che me l'ha creato Minecraft Troppi Versi Sensi di droga In se stessa E Visto che posso Continuo A costruire case Così Ok Bene Bene 1 2 3 4 5 Deve essere così alta Così Deve essere Ecco lì Ho sbagliato Perfetto Sperando di farcela Anche con La quanti Eh Con un Detto O potrei Farne Alta Altri Ho sbagliato Qua Ah Ecco Cos'ho Sbagliato Questo Va Qui Ok Andiamo a fare Altri Di quei Cosi Dov'è Wood Wall Senso Che Tanta Bastia Ok Adesso Facciamo Anche Queste Due Case Queste Sono Le Poi vi saluto Perché Devo Uscire Con Dei miei Amici Che Uno dei quali Devo anche andare a prendere Quindi Devo Uscire Prima E Mettiamo Qui Questo 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 Mi è venuto in mente adesso Se Che tipo dovrei iniziare a fare Tipo dei Tipo 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 dei vlog Della Invita reale Non so Più spesso Perché se non sbaglio ne ho fatto uno Massimo due Non so Dipende da quello che Da come vi Piaccia a voi la cosa Se a voi piace Eccetera E Niente Finiamo le due case Quindi Servono Altri Un altro tavolo E Un'altra sedia E un'altra Porta Ecco Qua Ok Ora Completiamo questa casa E sperando Prima o poi arriverà L'asfalta Ecco Non mi voleva mettere La cosa Mettiamo Alla perfezione Dei tavoli E Sperando Prima o poi Mi arriverà Un nuovo MC Controlliamo Che queste case Siano Buone This house Housing is suitable This housing is suitable E Niente Qua copro Perché se no Mi entrano i mostri Inoltre E Niente Grazie per essere stati con me Per tutto questo Lungo episodio Per questi Episodi Perché Penso proprio Che lo dividerò Perché Non voglio Postare Video di 6 ore e mezza No vabbè Non è di 6 ore e mezza E Niente Con questo saluto Bella raga Qui danifra Ciao